Turno in fra settimanale in Serie D. Si gioca la decima giornata della girone di andata trasferta. Abusto Garolfo per lo Stresa che vuole dare continuità alla sua mini Serie Positiva. 4 punti nelle ultime due giornate. I ragazzi di Cesare Rampi affrontano la grande delusione del campionato. Il Milano City che era partito per provare la promozione in Lega Pro. In realtà invece la formazione lombarda è nelle zone caldissime della classifica. Dietro in classifica appunto anche allo Stresa. Match casalingo per il Laborgo Sisia che l'MLB vuole tornare a vincere contro la Lavagnese. I Granata sono anch'essi in una zona di classifica. Tutt'altro che tranquilla nel resto del programma. Ci sono Arconatese Prodronero, l'interessante Bra a Savona con i Liguri a caccia di una vittoria esterna che rilancerebbe i loro sogni di promozione. La prima della classe, il Lecco di Mister Gaburro, affronta il Chieri di Manzo. Ila Casale gioca contro la Folgore Caratese. A proposito di Folgore Caratese, inibito per un mese il presidente della Folgore Caratese, Michele Crescitiello, famoso anchormen e giornalista di Sport Italia, perché, si legge nel comunicato, a fine partita avrebbe dato uno schiaffo e avrebbe colpito con un calcio ad un anca un dirigente della Ligurna a Folgore Caratese che aveva vinto la partita domenica 3-1. Il quadro poi si completa con il match tra Inveruno, Fezzanese, Sestri e Borgaro e tra Ligurna e Sanremese.